ciao a tutti allora andiamo ad affrontare una nuova recensione di roba che ho comprato recentemente lampadine per domotica diciamo così anche se la domotica tutta un'altra cosa e poi delle cuffiette tutto chiaramente preso su amazon queste cuffiette lo trovate chiaramente se andate a cercare subito il delle cuffiette wireless sono le prime che compaiono e secondo me sono veramente veramente valide lo spacchettato in seconda fa perché ero veramente entusiasta ed ero veramente curioso poiché anche la consegna è stata fatta di domenica chiaramente amazon impeccato da questo punto di vista oggi andiamo a vedere queste e tra qualche giorno vedremo anche queste vediamo un po allora come si presenta la confezione confezione classica confezione classica potrei metterla a confronto con miliardi miliardi di altre confezioni quindi veramente rimane uguale come tutte quelle altre quindi andiamo lasciamo da parte in casa c'è anche fin troppe di cuffie di qualsiasi fascia di prezzo allora questo chiaramente era tutto in cellofanato e manuale di istruzioni la cosa secondo me molto bella e che allora come vedete sono assemblate con cura quindi da un certo punto di vista hanno anche questa pellicolina ora perché io l'ho già spacchettata eccetera l'ho già usate simili diciamo prodotti apple che va tolta eccetera noi la togliamo così per praticità e per preservare la bellezza la confezione è grande quanto più o meno quanto delle airpods pro quindi più o meno siamo siamo a questi livelli qua forse un pochino più grandi quello che mi piace parecchio che queste sono le airpods pro che si belle sicamente eccetera abbastanza funzionali qui mi piace parecchio che c'è l'indicatore di carica non ho capito se delle cuffiette o del case molto probabilmente del case infatti quando lo vedete c'è le cuffie che si stanno caricando ed è molto carino essendo un prodotto di fascia bassa comunque costa 29 euro e 90 29 euro e 99 secondo me un prodotto così veramente parecchio valido andiamo a vedere dentro confezione stabile e solida sentite non fanno rumore non fa nessun tipo gioco mentre l'airpods pro nonostante non siano mai cadute nonostante abbiano la confezione eccetera assemblate un po con i piedi va detto queste costano 30 queste costano 270 quindi c'è un bel un bel abisso porta usb tipo c per ricaricare cuffie non sono neanche poi tanto grandi e secondo me a livello di qualità costruttiva non sono affatto male se fate il paragone anche con l'airpods pro insomma più o meno siamo lì cosa molto bella quando le estraete quando le rimettete chiaramente cioè le mettete nell'orecchio c'è un segnale acustico che che avverte le cuffie sono indossate che non lo so la chiamata è stata interrotta che c'è una chiamata in arrivo eccetera e questa è una funzione veramente ottima andando a vedere con questo fantastico a 52 s della mia mamma si interfacciano particolarmente bene non posso dir di no e funzionano bene allora le cuffiette sono le x15 quindi dovrebbe essere il modello sono già state associate per chiamate audio funzionano perfettamente bene ora che chiaramente sono dentro però basta tirarle fuori e si si connettono in modo automatico ti danno la percentuale la batteria e per essere un prodotto da soli 29 euro 90 penso sia una parente c'è la qualità delle chiamate buona sono molto leggere pesano pochi grammi si inseriscono bene chiaramente sono conflette con i gommini a chi non piacciono gommini torneranno magari scomode però questo qui sono discorsi puramente soggettivi di gusti allora qualità in chiamata ottima con chi si parla ci sente bene e non hanno particolari difetti anzi hanno tanti pregi considerando che costano unicamente quel prezzo che già vi ho detto paragonandole con prodotti molto più blasonati che poi assemblati anche in modo un pochino superficiale però però troppo noi si può dire niente perché un po come non lo so non si può di niente e anche se non sono molto accordo con con l'opinione di tanti però questo costando praticamente un decimo rispetto a quelle secondo me in alcune cose è fatto anche veramente bene a livello qualità costruttiva quindi da un certo punto vista avere consiglio promettono 30 32 ore di di ascolto di riproduzione con una sola carica non lo so queste sono sono da testare ma viste però per quanto costano penso siano veramente eccellenti portata fino a 10 15 metri di raggio bluetooth quindi non avrete nessun tipo di problematica quando andate a lasciate il telefono in un posto e lo anziate in giro con le cuffie quindi per ora sono pienamente promosse vi lascio il link in descrizione se le volete acquistare vediamo un po come va grazie per la visione e ci vediamo presto ciao